Sono accanto a Paolo D'Auria, un amico e un grande sostenitore di Taranto senza Ilva. Beh, Paolo che dici? Fa caldo, ma ci facciamo una battuta di golf? Una partita golf? E tu mi dirai, Luigi sta impazzendo? No, non sto impazzendo, perché qui a Paolo VI, in Via della Liberazione, quasi angolo con Via del Vecchio, guardate che buche ci sono. Sarebbe, come dire, la location ideale per giocare a golf. Qui passano anche le macchine, povere macchine, poveri automobilisti. E' una partita di golf, manca solo la mazza da golf e la pallina. Paolo, una realtà impressionante, tu abiti qui. La cosa assurda è che Via della Liberazione, alle spalle, vedete, è stata riasfaltata. Questo tratto, evidentemente, era figlio di nessuno. Caro Luigi, più che una partita di golf, qui si potrebbe fare una gara di motocross. Perché dalla buca che si vede quanto possa essere pericoloso se passa una moto, stiamo quasi parlando di un centimetro e mezzo di asfalto mancante. Tu pensa a un signore di grande età che possa passare con la bici. Anche un ragazzo, un giovane, chiunque. Va a prendere una buca del genere e cade. O con la pioggia. Facciamo vedere un video che ci ha mandato un cittadino, un video fatto in moto, dal quale, proprio attraverso il quale, si vedono i rischi che si corrono. La realtà, Paolo, è che manca la programmazione perché è assurdo rifare un'arteria. via della liberazione e poi, proprio a pochi metri, ignorare uno scempio del genere. Non lo so, è un'amministrazione che non sa quello che fa. Beh Luigi, a pochi giorni fa c'è stata fatta la riparazione dell'asfalto. È stata riasfaltata via della liberazione. È stata riasfaltata tutta via della liberazione. Penso che quel giorno qualcuno del comune è sceso a verificare. Non credo. Penso un perito tecnico. Quindi questo tratto qui avrebbe dovuto vederlo. Avrebbe dovuto vederlo e metterlo in programma. Come al solito, le solite favole, le risposte che vengono date all'amministrazione quando ci sono le sollecitazioni. Sì, sì, consideriamo la richiesta, avete ragione. Metteremo in programma, programmeremo. E poi, come si suol dire a Taranto, chi si è visto si è visto. Ma Paolo, qui è una questione di sicurezza. La sicurezza prima di tutto, sia per chi porta la moto, la bici, soprattutto per le macchine, perché riporta molti danni sia ammortizzatori e tanti altri pezzi. Per non parlare, poi se malauguratamente dovesse passare da qui un'ambulanza, immaginate il poverino che sta sulla barella, quanti sobbalzi dovrebbe fare. E certo, ci sarebbero molti sobbalzi, perché la strada è molto… Un percorso di guerra. Un percorso di guerra. Neanche forse in Ucraina ci sono tanti furi. Bene. Melucci dice che ha seminato la rinascita. Finora vediamo che ha seminato soltanto le buche. E sembra che un meteorite sia caduto qui sopra a Paolo VI. Questo vergogna, amministrazione Melucci, vergogna. Prima ve ne andrete a casa e meglio sarà per la città.